Seconda Epistola di Giovanni Apostolo Mi sono grandemente rallegrato d'avere trovato dei Tuoi figliuoli che camminano nella verità come ne abbiamo ricevuto comandamento dal Padre. E ora Ti prego, Signora, non come se Ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio. Amiamoci gli uni gli altri, e questo è l'amore che camminiamo secondo i Suoi comandamenti. Questo è il comandamento che avete udito fin dal principio, onde camminiate in esso. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha il Dio. Chi dimora nella dottrina ha il Padre e il figliuolo. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvage opere di Lui. Pur avendo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carta e di inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce affinché la vostra allegrezza sia compiuta. I figliuoli della tua sorella eletta ti salutano.